Fu internato in un campo di concentramento in Polonia, dove lavorava come operaio specializzato in una fabbrica di armi da guerra. Dalla ricerca svolta da sua figlia Amalia insieme alla docente Luigia De Emilio, sono emersi dettagli che hanno consentito di ricostruire che erano 23 i tollesi deportati nei campi di concentramento, pur non essendo ebrei, ma per aver rinunciato a proseguire i combattimenti. A Roberto Dincecco, aviere dell'aeronautica militare, deportato in Germania dal 1943 al 1945, oggi il prefetto di Chieti ha conferito una medaglia d'onore che è stata ritirata dalla figlia Amalia, attuale vice sindaco di Tollo. Una volta nel campo di battaglia, in casa di mio padre, sul fronte russo, si sono resi conto di quella che era realmente la guerra e quindi hanno cominciato a cambiare le loro idee, così quando c'è stata la resa si sono rifiutati di combattere, di prestare giuramento e quindi internati nei vari lager. Io accolgo questa medaglia con grande onore perché è stato riconosciuto tutti i sacrifici, ma soprattutto i suoi e quelli di tante persone che hanno dato tanto per la nostra libertà. Noi abbiamo fatto un progetto di ricerca che dall'anno scorso, abbiamo iniziato il 27 di gennaio dell'anno scorso, abbiamo trovato in tutti gli archivi presenti 23 in totale internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi. Ora stiamo raccogliendo tutti i fogli matricolari perché vanno mandati alla Presidenza della Repubblica per ottenere la medaglia. Successivamente, una volta consegneremo con il suo eccellenza il prefetto le medaglie e faremo un sacrario nel nostro territorio vicino al Monumento dei Caduti dove ci saranno i nomi di tutti questi 23 eroi che lottarono contro il regime nazista. Quindi onore a Tollo e al suo sindaco e a tutti quanti alla consigliatura perché possano andare avanti su queste iniziative, perché, ripeto, dimenticare e non ricordare sia cose belle che cose brutte è diventato un fatto da combattere assolutamente.